400 cerchi dipinti di legno che in un gioco combinatorio formano un'architettura mobile e mutevole appropriata a diversi contesti che di volta in volta la ospitano. È la città di tutti, installazione modulare inaugurata nel chiostro del Palazzo Centrale dell'Università di Sassari ispirata alle idee di accessibilità, autocostruzione e co-creazione di Iona Friedman insieme a Jean-Baptiste Decavel presente ieri alla cerimonia. Il servizio è di Luca Foddai. No Man's City, la città di tutti, è l'installazione site specific di Iona Friedman inaugurata a venerdì pomeriggio nel chiostro del Palazzo Centrale dell'Università di Sassari. Friedman è un architetto i cui lavori sono presenti nelle collezioni del MoMA di New York, del Centre Pompidou di Parigi e del Getty Institute di Los Angeles. Alla cerimonia di inaugurazione era presente anche Jean-Baptiste Decavel legato a Friedman da una profonda amicizia e collaborazione decennale. Il progetto No Man's City è ispirato alle idee di Friedman di accessibilità, autocostruzione, co-creazione ed è l'ultima tappa di un percorso che lega idealmente l'iniziativa di Sassari ai precedenti progetti realizzati in Italia da Friedman con Decavel. L'installazione, che ha visto l'impegno degli studenti ed è stata organizzata congiuntamente dai dipartimenti di giurisprudenza e di architettura, rientra nel progetto Sentieri Contemporanei promosso dal DecaMaster, Master in Diritto ed Economia per la Cultura e l'Arte dell'Università di Sassari, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e la collaborazione di Zerinti Associazione per l'Arte Contemporanea o DV. Il filo conduttore è costituito dalla grande installazione modulare No Man's City, la città di tutti, 400 cerchi di legno dipinto che in un gioco combinatorio formano un'architettura mobile e mutevole appropriata ai diversi contesti che di volta in volta la ospitano. Il viaggio della struttura è accompagnato in ogni sua tappa da interventi artistici e momenti di approfondimento scientifico nella considerazione dei contesti coinvolti. Tra gli interventi già realizzati, la mostra collettiva dello scorso anno ad Alghero con 29 artisti internazionali e l'installazione No Man's Station a Berchitta e Oscri.